porco di bella raga bella raga me hai fatto fare 30 manovre per fare sta cagata dovrò poi portare i contenuti ai miei followers signori non vorrei dire ma oggi siamo qui con una moto che arriva quasi alla bellezza della duke si avvicina quasi alla bellezza della duke ma dove cazzo ti presenti bella vecchio allora non piove come si sale qua fammi capire oh che comodità non ho neanche gli aggrappi qua sotto bello e quando freni? porco di e che scivola sto sellino guardala Mr. Bean vecchio si ma guarda che secondo me sono amichevoli ma ho guardato il meteo non piove no? come? come? comunque no dicevo che dopo tu hai un conto in sospeso con me va bene mi vuoi paccare il giro con la z va bene non c'è problema no la prossima volta la prossima volta ti faccio farlo eh sì eh sì che aria umida madonna comunque la cosa scomoda di sta moto è che hai le pedaline talmente in alto quindi stai talmente accovacciato che non riesci neanche a spingere coi piedi non riesci a spingere coi piedi in giù per darti stabilità oddio là in fondo vedo della pioggia però farà un circolo motorotatorio uniforme e non verrà qua ma quanto pesa sta moto? un fuscello oh guarda che belle nuvolette che ci sono oh no io vedo le gozze sulla mia visiera qua devi andare a destra a destra verso le nuvole bisogna andare pazzesco eh pazzesco è una nuvola passeggera nooooo nooooo nooo oh attento 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 e niente bentornati Ci siamo fermati sotto questo Bell'ulivo Bell'ulivo All'aspettare che smettesse di fiovere E adesso è venuto il sole, vedi? Guarda che c'è l'arcobaleno Oh, guarda che si vuole fare la foto con noi, guarda Quattro frecce per mettere la foto con noi Incredibile Comunque signori, questo qui sarebbe un video Dove faccio da Zavorrina Alla Z900 E oltre a fare da Zavorrina alla Z900 Dovrei anche provarla Con l'asfalto così puoi provare solo sto cazzo Dai, nel dritto, minchia Non ha controllo di trazione come le moto da fighe questa Ma che controllo di trazione? E quindi è una recensione seria questa qui Recensione Allora Codino abbastanza minuto Stai molto accovacciato che sembra che stai facendo Ecco, sembra che stai cagando nella... Come si chiama? La Turca La Turca, bravo E quindi è una recensione seria questa qui Bene ma non benissimo Bene ma non benissimo, esatto Qua troviamo Speedy Wheels Iscrivetevi al suo canale Che sennò mi scassa la minchia Andiamo Si riparte Guarda qua I panorami dell'Emilia Romagna Porca tr*****e Che cazzo è qua sotto? Che c'è sul casco? Non so Ah, è questo È cosa della felpa Dove cazzo te lo metto porco Te lo sto mettendo Fabri Fabri Va che bellino No, 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 è di là È di là, è di là Era confuso dallo scoppio Cioè appena Appena lo scarico è scoppiato Cioè il canico ha fatto Oddio, cazzo È la madonna Porco Oh, il c***o che mi vibra Oh, il c***o che mi vibra Oh, il c***o che mi vibra Oh, il c***o di c***o Eh, là, là Eccola lì Oh, eh, eh, eh Occhio Occhio Pantani vive È lui È Pantani È lui Vive, è lui E basta questo coso Vecchio Te lo sto mettendo, eh Lo sto infilando È infilato Lo senti? Azz Questo potrebbe essere un problema Oh Oh No Eh, vabbè E Napoli fu E siamo arrivati Siamo arrivati Non aprirò subito No, non aprò subito Io Con il c***o Mi rompe paga E non sto scherzando Ok Pantani Ma che sound dà? Ma che sound dà? Vecchio! Proviamolo raga Porco Dio Vecchio No un altro ti prego l'ultimo Ti prego ti prego Ultimissimo Ma raga cosa? Ma raga impressionante Impressionante Vecchio Madonna che adrenalina che ce l'ho conosco Vecchio Puttana Ma Ma Vai 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 Dammelo dammelo Dammela Dammelo 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 Dammela Va bene ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, fate bravi, non drogatevi come il nostro amico qui E neanche come te però E neanche come me Salve E ci vediamo alla prossima E' Calle Sinna, com'è che si chiama? Lapo Pimmi Vabbè, ora faremo una chiusura fantastica, guarda Ciao